uno di questi luminari di oxford che dice però potremmo provare a contattare uno che conosco io che è il signor Murray, James Murray, lo interpreta Mel Gibson ovvero è un signore che non ha una laurea ma è estremamente colto e sa un sacco di cose sulle lingue, non solo quella inglese ma su un sacco di altre lingue e il nostro Murray si mette al lavoro e si rende conto che il lavoro è impossibile grazie a tutti